salve a tutti ragazzi bentornati su fattolo da solo procediamo con la nostra programmazione in c++ lo facciamo spiegandovi come inserire dati da tastiera e lo facciamo anche spiegandovi le quattro operazioni principali prima di iniziare col video di oggi mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete fatto attivando anche la relativa campanella delle notifiche in più sul sito fatto da solo punto it trovate anche altri tutorial linguaggi programmazione per microcontrollori iniziamo il programma che sommerà due numeri come sempre includendo la libreria io stream procediamo poi creando due variabili intere la prima è n1 che è il primo addendo la seconda n2 che è il secondo addendo e procediamo a una terza variabile che sarà invece la somma quindi il la variabile che ospedirà il risultato dell'operazione n1 più n2 andiamo a creare la famosa funzione principale int e procediamo con lo standard di out ovvero faremo stampare sul terminale un messaggio che ci invita a inserire il primo numero procediamo a questo punto inserendo da tastiera il primo numero quindi utilizziamo lo standard in questo caso cin ripetiamo la stessa operazione per il secondo numero facciamo semplicemente un copio e incolla per velocizzare la procedura dove ovviamente andiamo a sostituire n1 con n2 e nel testo ovviamente scriviamo secondo numero per questioni di logica eseguiamo a questo punto l'operazione di somma semplice somma corrisponderà a n1 più n2 e il passo successivo è quello di stampare il risultato per farlo c utilizzeremo anzi lo standard std cout andiamo ovviamente anche a indicare quale sarà la variabile che andiamo a stampare e infine concludiamo con lo standard end line il tutto va concluso con return 0 fatto questo dovrebbe essere tutto giusto non ci resta che compilare ed eseguire quindi o f11 scusate la tastiera o compila ed esegui ok vabbè l'antivirus qua ci rompe le scatole ci chiede ci dice che non fa il sospetto probabilmente infatti questo si può pure chiudere allora inseriamo il primo numero il numero per esempio 10 premio invio inseriamo il secondo numero per esempio 7 premio invio risultato è 17 questo punto va bene premio un tasto per continuare e il tutto è finito una volta che abbiamo capito come sommare due numeri effettuare le altre operazioni non è molto complicato andiamo innanzitutto a creare un nuovo file sorgente di nuovo file sorgente come sempre libreria iostream questa volta invece utilizzare sempre le std due punti eccetera andiamo a semplificare con la seguente riga così evitiamo sempre appunto inserire std prima di c in c out e end line creiamo una serie di variabili per esattezza 6 e le creiamo flott flott è un tipo di variabile a virgola mobile ci sarà utile perché tra le operazioni abbiamo comunque la divisione potrebbero uscire appunto numeri con la virgola abbiamo la nostra funzione int main e procediamo appunto all'inserimento del primo numero il primo numero in questione sarà a quindi andiamo a scrivere semplicemente c out il cin per inserire a e rivediamo quello che abbiamo fatto sopra come incolla veloce per evitare di perdere tempo b sarà quindi il secondo numero da inserire infine procediamo con l'end line a questo punto il resto è tutta matematica quindi otterremo c d e ed f dalle quattro operazioni tra a e b quindi ci sarà la somma di la differenza e il prodotto e infine f la divisione andiamo a spiegare velocemente quello che ho scritto sostanzialmente la operazione di matematica della divisione scusatemi la sappiamo il simbolo più il meno ovviamente corrisponde per chi non lo sapesse l'asterisco corrisponde al prodotto e lo slash invece alla divisione a questo punto dobbiamo semplicemente stampare i risultati quindi utilizziamo il c out e andiamo ovviamente a scrivere un messaggio giusto per far capire di che cosa si tratta quindi i risultati sono due punti mettiamo un piccolo spazio e procediamo il primo risultato è quello di somma utilizziamo il nostro escape per mandare a cavo scriviamo somma due punti e inseriamo quindi la somma abbiamo detto che era c poi il nostro solito escape per la differenza la differenza abbiamo detto che era d nuovamente un escape per il prodotto intanto ci eravamo scordati qui due punti quindi il prodotto abbiamo detto era e e infine la divisione essere f non dimentichiamoci l'endline e il punto e virgola come abbiamo sempre ripetuto finora per terminare il tutto retardo a zero e punto e virgola allora andiamo a questo punto a compiere e seguire vabbè ci chiede la chiamiamo quattro operazioni salviamo ok qua c'è un errore c out perfetto lo correggiamo subito ok si vabbè la vg ci rompe le scatolazze ok il primo numero quindi per esempio 3 secondo numero 7 quindi la somma dovrebbe essere 10 la differenza è meno 4 il prodotto è 21 e la divisione è 0,4 eccetera quindi possiamo dire che ci riteniamo abbastanza soddisfatti con questo si conclude il video di oggi mi raccomando pollice in su e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto noi ci vediamo prossimamente con altri contenuti ciao 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 Grazie a tutti